Siamo a Corchiano per la terza edizione di Voci e Suoni per la Legalità. Quest'anno si parla di ambiente e gioco d'azzardo, ma qual è il trade union fra questi due elementi? Tutela del territorio, tutela dell'ambiente e tutela della coesione di una comunità sono due questioni che assolutamente devono essere tenute insieme per avere una crescita giusta, sobria e dalle relazioni forti. E questo è il trade union. Se si può parlare di una scommessa è quella di scommettere su una carriera sportiva? Volendo sì, io sulla mia ho scommesso, nel senso mi sono impegnata e scommettevo nelle mie possibilità di voler vincere. Ha scommesso e ha vinto. È ovvio, però non è sempre così, ce ne sono avute tante di sconfitte, quindi da quella sconfitta ho costruito la mia vittoria più importante. Fra poco presenterete il ventesimo rapporto sull'ecomafia. In questi due decenni, come è cambiata la situazione, se è cambiata? Il paese è sempre lo stesso, è un paese devastato da una criminalità ambientale ferata che da un capo all'altro del paese continua a saccheggiarlo e a devastarlo. Purtroppo ogni anno scrivere il rapporto ecomafia è veramente un esercizio molto difficile per noi perché effettivamente questo angolo di osservazione che è la nostra analisi che facciamo con i rapporti ecomafia ci dà veramente un istantaneo di un paese sicuramente sotto scacco della criminalità ambientale visto che i reati continuano a crescere e le capacità con le quali i criminali si pongono in questi fenomeni continuano ad essere sempre più efferata. Sicuramente è cambiata la percezione dei cittadini, questo è evidente, così come sono cambiate anche le capacità investigative delle forze dell'ordine che portano a risultati sicuramente molto positivi. È cambiato qualcosa anche dal punto di vista normativo. Abbiamo ottenuto un grande risultato nel 2001 con l'unico delitto ambientale che è quello di traffico organizzato di rifiuti, per il resto ancora tante riforme vanno fatte e ancora a vent'anni di distanza chiediamo che i reati ambientali finalmente possano far parte del codice penale e quindi possono avere una pena efficace nei confronti dei responsabili. Lei si è occupato per anni di abusivismo edilizio. In un paese diciamo così prolifico di condoni, come si combatte l'abusivismo? Certamente non è facile combattere l'abusivismo edilizio quando una classe politica ogni 7-8 anni vara a un provvedimento di condoni edilizio. Detto questo, però, la strada da perseguire è quella dell'applicazione rigorosa delle leggi in materia. Se noi abbiamo delle sentenze di condanna, queste vanno eseguite con l'ordine di demolizione del manufatto abusivo. Se fosse generalizzata questa pratica, credo che l'abusivismo edilizio avrebbe una flessione. Senta, ci sono delle situazioni contingenti di terreni più fertili per l'abusivismo? Certamente noi abbiamo delle situazioni territoriali più favorevoli alla crescita dell'abusivismo edilizio che, in effetti, intanto si sviluppa in quanto la pubblica amministrazione è carente, non governa in modo adeguato il territorio e quindi il privato ha il sopravvento sul pubblico. Dal punto di vista ambientale, qual è il danno dell'abusivismo? Beh, è un danno notevole che si può registrare soltanto nel medio-lungo periodo. In effetti si sente dire spesso, beh, ma che cosa facciamo di male? Ci costruiamo una casa, ma bisogna osservare che non ci sono fognature, che non c'è l'allacciamento all'energia elettrica, spesso non c'è la rete idrica e quindi tutto questo può comportare seri pericoli per l'ambiente. Viene rivendicato, diciamo, a torto un diritto alla casa, mi sta dicendo? Ma il diritto alla casa è previsto nelle nostre leggi, ma intanto si può parlare di diritto in quanto si rispettino le leggi. Se una casa viene costruita in violazione delle leggi, non c'è alcun diritto a conservare quella casa. L'edizione di quest'anno prevede il gemellaggio tra Corchiano e Pollica, la città diventata tristemente famosa per l'omicidio del sindaco Angelo Vassallo nel maggio del 2010. Corchiano e Pollica ragionano insieme di un futuro diverso, lo fanno attraverso un gemellaggio anomalo, due eventi molto importanti, questo di stasera a Corchiano e festamente legalità a Pollica, cercano di costruire insieme una rete di positività per lanciare un nuovo messaggio, per fare in modo che il nostro paese possa finalmente ragionare delle cose giuste, possa finalmente ragionare dei presupposti per lo sviluppo, per la crescita sociale ed economica del nostro paese. Il tutto sembra strano, ma raccontato attraverso la musica, attraverso la cultura, attraverso le parole e l'impegno sociale di tante persone.